Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Adria, siamo qua nel centro di Adria dove c'è il corso perché la notte scorsa avevano rubato il bambin Gesù, naturalmente un atto vandalico che noi vogliamo sottolineare la gravità di questo fatto, ma comunque tutta la comunità ha riportato ancora il bambinello e quindi speriamo che non succeda più che la gente faccia questo atto vandalico e naturalmente auguris come sempre di buone feste e sperando che non succeda più da Leandro Maggi e da Adria, buonasera.